musica 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 lanciato qui il giocatore del mundial che può andare uno contro uno con il portiere pallone che passa in qualche modo ma c'è il difensore della magnitudo che recupera poi ancora il 9 buona posizione fa partire il tiro deviato la palla rimane lì si lotta ancora e alla fine sarà calcio d'angolo musica 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 La palla rimane lì, dal nulla il capitano spuga come un fantasma alle spalle del difensore e porta avanti i suoi. Sbaglia l'appozio, quindi da questa parte il Mundial. Prova il numero 9 a lanciarsi, superare un avversario. Prova un'eternuta in campo, prova il numero 9. Vai in avanti, entra in area di rigore. Ancora il 9 a partire alla conclusione. Ma blocca in due tempi il quartiere senza problemi. Mundial, sul punto di battuta il mancino del numero 10 della Magnitudo, che è pronto a partire. Parte poi in traversone, palla che passa in qualche modo. E c'è il colpo di testa e il gol che porta la Magnitudo sul 2 a 0. Spalla la porta, ma recupera il Mundial. Ma non è che rimane lì, quella è la carambola, tocca con il braccio. Arriva il fischio dell'arbitro. Sarà calcio di rigore per la Magnitudo. E' tutto pronto. Parte il 10! Col pallone che finisce sotto l'incrocio e porta i suoi sul 3 a 0. Mette il numero 10, che va per via centrali. Dall'altra parte è largo un compagno, servito il numero 23. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Entra dentro l'area, parte il traversone. Pallone che passa, ma non ci arriva il numero 9. Che occasione potenziale qui per il Mundial. Messo il numero 19. Riesce ad entrare dentro l'area. Zona cross. Fa partire il tiro! Da 4 a 0. Il neo è entrato, il numero 19. Si iscrive anche lui al tabellino dei marcatori. E dici, è entrato da poco. A sfondare da questa parte. Servito il 19. Si propone sempre. Fa partire la conclusione. Tiro murato. Col pallone che rimane lì e poi sempre il 19. Probabilmente chiude la partita. Fa 5 a 0. Il pallone che passa, rimane lì. E c'è il gol. Segnato è il numero 4. E 6 a 0 per la magnitudo. Libera di una pressione avversaria. Perde però poi il possesso per il numero 2 del Mundial. Che prova a sventare la minaccia. Il pallone rimane lì. Poi il 20. Zona tiro! E c'è un altro gol. 7 a 0. E alla fine il direttore di gara fischia tre volte. E manda tutti sotto la doccia. Non c'è stata partita all'Arenato Fiorentini. La magnitudo. Batte i padroni di casa del Mundial. 7 a 0. Capitoli. C'è stata partita all'Arenato Fiorentini. Seguì.